Nicolò Figari si riparte una nuova stagione ma facciamo un passo indietro è smaltita la delusione per la mancata convocazione a Rio? Ovvio che no, sono delusioni che uno difficilmente dimentica però ora bisogna pensare a questa nuova stagione, un nuovo allenatore, nuovi giocatori, gli obiettivi rimangono invece sempre gli stessi, l'anno scorso non siamo riusciti a centrare in pieno tutti quanti quindi bisogna concentrarsi su questo. Sei qua dal 2008 quindi toccherà anche ai veterani come te far sì che i giovani riescano inserirsi in maniera ottimale? Sono giovani comunque volenterosi, daremo una mano noi che siamo qui da un po' più tempo, li conosco, so che hanno voglia di mettersi in mostra e questo è il posto giusto. Arriva mister Vujasinovic che cosa può dare secondo te la squadra? Io a livello di allenatore non lo conosco ancora così bene, l'ho visto fare grandi cose con i giovani del Partizan, con la nazionale quindi potrà dare sicuramente molto soprattutto a quelli come me difensori visto che lui è stato il più forte della storia forse quindi potrà solo che aggiungere qualità alla nostra squadra.